Incidente nella notte in via Borgo Padova a Campo San Piero dove un furgone si è scontrato contro un'auto schiantandosi poi contro un edificio prendendo fuoco. Tre le persone rimaste ferite. Verso le quattro un'auto si è scontrata contro un furgone che ha carambolato andando a schiantarsi contro un palazzo in cui al momento non erano presenti persone. I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento volontario di Borgorico hanno spento le fiamme del furgone evitando che si propagassero al palazzo adibito a studi medici. I feriti sono riusciti ad uscire da soli dai mezzi e sono stati presi in cura dal personale del SUEM 118. Due sono stati trasportati in ospedale mentre il terzo è stato assistito sul posto. Nessuno è in pericolo di vita. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruirne l'esatta dinamica.